Gentili telespettatori, buona giornata. Carlo Nordio, ministro della giustizia, voleva fare, disfare di tutto, ma si è accorto che la Meloni sta frenando su tante cose, perché c'è di mezzo il capo dello Stato che spalleggia una certa magistratura, ci sono in gioco, diciamo che la riforma della giustizia è legata con tante altre cose, quindi la Meloni ha stoppato una parte di questa riforma della giustizia e Nordio sembrerebbe deluso, anche se lui continua a dire di essere assolutamente in sintonia con Meloni, e a chi gli chiede, lei è solo adesso? Lui dice, io solo sono in compagnia della mia coscienza, quindi diciamo che è una sorta di polemica molto molto alla leggera, ecco, così consiglio dei ministri, si annuncia l'imminente approvazione del decreto che corregge le sentenze della Corte di Cassazione per evitare che gravi reati vadano impuniti. Nordio appare sempre più solo perché le parole usate dalla Presidente del Consiglio ricalcano quelle usate da Mantovano per smentire che il governo avesse intenzione di modificare il concorso esterno in associazione mafiosa, come lo stesso Nordio aveva più volte dichiarato pubblicamente. Dice, non mi sento affatto solo, proprio per niente, anzi, dice, ho ricevuto un sacco di sostegni e complimenti, ma spiega che la solitudine non è sempre un nemico per chi è convinto delle proprie idee, le battaglie in cui credi sono fatte con la migliore compagnia, la tua coscienza. E così Corino, una sorta di ironia, fa vedere la sua disillusione. Lui pensava che arrivare a un governo di destra significasse fare stravolgere e si è accorto che realmente ci sono dei poteri che sono di igual forza contrari a quello che lui voleva fare. La necessità di tipizzare la norma, dice in un'intervista al Corriere, e poi dice in qualche modo me lo aspettavo. Ecco, una simile modifica non era prevista dal programma di governo. Allora perché dire, parlare di una riforma quando non era nel programma del governo e quando non era proprio definita dal governo? Perché proprio adesso si chiedono nel partito di Meloni, che ha dovuto faticare non poco a far capire a Nordio, a Silvio Berlusconi ora trova il sostegno massimo proprio nello stesso Nordio? E così Forza Italia è infatti determinato a utilizzare le parole del guardasigilli sul reato o non reato per rilanciare la battaglia contro le norme speciali antimafia. Come mai Forza Italia è così interessato a questo concorso esterno mafioso? Perché Dell'Utri, l'amico di Berlusconi, è indagato, si sa bene a che titolo, su un'eventuale ipotesi di concorso esterno mafioso, si cerca il mandante occulto che poi sarebbe Berlusconi, ecco quindi una parte della magistratura sta indagando ancora dopo 30 anni su Dell'Utri per andare a scoprire che il mandante occulto è poi Berlusconi dei fatti di mafia del 93-94. Ecco, questo è l'obiettivo, l'obiettivo è Berlusconi e guarda caso Forza Italia vuole modificare quella norma lì. E come mai? Che strana coincidenza. Forza Italia si interessa proprio a quella cosa lì mentre i giudici indagano Dell'Utri per concorso in associazione mafiosa esterna per cercare quel mandante occulto che sarebbe proprio, secondo i giudici, proprio Berlusconi. Ecco, insomma, lasciamo perdere le leggi ad personam perché insomma dobbiamo lasciarci indietro quel periodo storico dove chi governava si faceva le leggi ad personam, chi andava in politica per farsi le leggi per sé, per le sue aziende. Quindi diciamo che è meglio lasciar perdere e non rievocare tempi e leggi ad personam. Ecco, se non ci sarà nulla da trovare i giudici come da trent'anni a questa parte non troveranno niente con Dell'Utri. Quindi non c'è bisogno di cambiare le leggi, perché se tu vuoi cambiare le leggi significa che temi qualcosa. Quindi se Berlusconi non ha fatto assolutamente nulla non c'è bisogno di cambiare le leggi per impedire ai giudici questo e quell'altro. Ecco, insomma, perché in Italia questa cosa di Forza Italia che si fissa proprio su questo aspetto sembra un po' strano, per dirla con un effemismo. Ecco, ma dicono che Nordio è un puro, non capisce la politica, sbaglia i tempi, ama il paradosso giuridico. Beh, si cela in realtà il fastidio per le accuse che hanno colpito il governo e Giorgia Meloni per voler smantellare la legislazione antimafia, proprio a ridosso dell'anniversario di Via D'Amelio. Su questo Nordio ha replicato due volte, dice quello che scrivo da vent'anni, non posso smentire me stesso. Quindi, insomma, è una guerra anche di dichiarazioni, io non smentisco, io non faccio, però faccio, però smentisco. Sul tavolo al momento rimane però la linea di Meloni e Mantovano, ovviamente decide la Meloni. Una norma di interpretazione autentica che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per reati di criminalità organizzata e che eviti che gravi reati vadano impuniti per effetto dell'interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione. Anche perché, spiegano fonti di governo, questo è il momento meno indicato per attirare nuove critiche in materia di giustizia. Perché la Meloni il 13 di luglio ha parlato con Mattarella, Mattarella ha chiesto che non venga fuori nulla di questo colloquio, ma in questo colloquio si sarà proprio parlato di scontro governo-magistratura e Mattarella fatto da una sorta di intermediazione. anche se io vi dicevo l'altro giorno, non può intermediare su un qualcosa che non può avvenire. Il governo fa le leggi, la magistratura non può non volere le leggi. Quindi un'intermediazione di Mattarella su un qualcosa che non può esistere, l'ho vista come una cosa completamente fuori da ogni logica. È per questo che hanno voluto tenere tutto nascosto, perché sapevano che stavano facendo un qualcosa che non va a fare. Grazie a tutti e arrivederci a presto.